Sono un assessore alla cultura Giacomo Gambi, vi do il benvenuto qui insieme con me la dottoressa Oriana Orsi che terrà questo pomeriggio insieme, non dico lezione altrimenti ci può spaventare. È un incontro che qualche anno che il comune di Imola con i musei civici organizza questa rassegna che si chiama Domenica Palazzo un modo per approfondire appunto il nostro Palazzo Sozzoni da qualche punto di vista che in qualche modo ci è ignoto. Come sapete da qualche anno Palazzo Sozzoni ha una guida molto semplice, una app, in realtà anzi vi invito qualche domenica, tra l'altro per gli Imolesi le domeniche qui a Palazzo sono gratuite, un'app con cui appunto l'ultima contessa che qui ha abitato, in ogni caso ha abitato poco e ha donato al comune questo palazzo e con la sua voce appunto ci racconta le stanze di questo palazzo. Però una cosa è un audio guida ovviamente, una cosa è sentire appunto una visita guidata in qualche modo con qualche immagine che abbiamo, come dire, costruito e ricostruito qui per voi, lo vedete proiettate. Il palazzo è aperto fino alle sette, quindi dopo successivamente si possono anche vedere o appunto nei prossimi mesi potete tornare al palazzo per scoprirle al meglio. L'appuntamento appunto di questo pomeriggio parla di leggende, parla di miti, parla di animali fantastici, potremmo dire animali fantastici, dove trovarli c'è da poco il film della Rolling, beh si possono trovare anche a Palazzo Sozzoni, oltre che in un film appunto più dedicato ai più piccoli. Beh tutto questo è Palazzo Sozzoni, Palazzo Sozzoni è un luogo straordinario, un luogo che davvero ogni anno ci permette di fare scoperte nuove, perché ancora oggi dalle suppelletti li escono fotografie storiche, perché forse anche di questo ci parlerà Oriana. Molti degli abitanti dei cinque secoli erano appassionati di fotografie, quindi ci hanno lasciato anche fotografie, oltre che tutte le suppelletti dei mobili e i quadri che vediamo. Il Palazzo Sozzoni è un palazzo che è di proprietà comunale e che ogni anno appunto cerchiamo di valorizzare al meglio per cittadini e turisti. Vedere la sala piena significa appunto che stiamo cercando insomma di fare il meglio e probabilmente appunto in parte viene apprezzato. Io ho parlato anche troppo, lascio la parola a Oriana, ve l'ho presentata appunto come storica dell'arte, oltre che, ne stavamo ridendo prima, dipendente comunale appunto dei musei dal 2000 e di Palazzo Sozzoni sa davvero, credo, vita morta e miracoli. Quindi vi lascio a lei che certamente potrà guidarci nel pomeriggio. Ringrazio, ringrazio Giacomo perché è sempre generoso quando parla di noi dipendenti e di questo devo dire lì do merito. Grazie a tutti voi invece di essere qui per questo nuovo appuntamento di Domenica Palazzo, ormai un rito che si ripete, questa è la quarta volta. Quest'anno abbiamo deciso di strafare, per cui abbiamo deciso di mettere cinque appuntamenti invece di quattro appuntamenti. Avete sulle vostre sedie il depliant e quindi vi invito a scorrerlo perché gli argomenti sono veramente tanti e i più diversi. Si ha ragione Giacomo quando dice che questo palazzo è un luogo, sì, esplorato, perché è un palazzo conosciuto, catalogato, studiato, ma che ci offre sempre la possibilità di qualche scoperta nuova. Io devo fare due ringraziamenti prima di cominciare. La cioccolateria imolese, alla fine di questa chiacchierata, e so che siete qui per quello quindi non mi gaso troppo perché so che è così, ci offrirà un assaggio di cioccolata calda perché, come si conviene, per gli inviti a palazzo, naturalmente scatta l'ora di una piacevole conversazione attorno a un bicchiere di cioccolata fumante. Ringrazio Eric Dall'Osso perché quando vi siete seduti avete sentito un piacevole tappeto musicale e lui tutte le volte ci sceglie sempre una musica adeguata al nostro incontro. Bene, Domenica Palazzo, voi sapete, comincia in gennaio, però noi cominciamo a pensarci molto prima. Vi faccio questa preview di quello che è dietro le quinte. Proprio dove siete seduti lì voi, a settembre, io seduta, pensavo, ma cosa posso raccontare? Cosa posso raccontare? E alzando gli occhi, è chiaro, i soffitti non ne abbiamo mai parlato. Per cui oggi sfidiamo naturalmente la vostra arachide cervicale, mi raccomando, invece della cioccolata dovevamo distribuire del voltarenne forse, ma ci occuperemo di soffitti. E' un argomento un po' particolare, non è stato facile isolarlo, perché di fatto poi un soffitto noi lo guardiamo congiuntamente alla sala nella quale si trova, forse non lo percepiamo neanche isolatamente, se no naturalmente chi lo fa per mestiere e chi è storico dell'arte si interessa solo di decorazione. Io ho pensato quindi di fare, se ce la faccio qui, di cominciare da zero. Mi sono chiesta che cos'è un soffitto. Naturalmente l'enciclopedia a tre cani ci dà una risposta chiara, molto asciutta, come si conviene naturalmente all'enciclopedia. È la superficie che delimita superiormente il vano di ogni ambiente coperto. Fine. Ma può essere solo questo un soffitto, secondo voi? Secondo me no. De Corbusier diceva che una casa è una macchina per abitare e quindi è un luogo che deve essere fatto funzionare e nel rendersi funzionante deve ogni piccola parte farla entrare in un grande ingranaggio. Assieme, ecco, devo dire che mentre preparavo questo incontro ho fatto degli incontri felici che forse possono essere casuali, invece chi ci crede può immaginare che sia destino, vediamo un po'. Però ho letto questo libro molto bello, nel caso foste interessati, ve lo consiglio, si chiama Filosofia della casa. Emanuele Coccia è un giovanissimo filosofo italiano che, ahimè, come molti cervelli, è fuggito all'estero e credo lavori adesso a Berlino. E però ci dice questo, la casa è una traduzione in spazi di gesti, abitudini, sentimenti. Costruiamo case per accogliere intimità, una porzione di mondo, per rendere possibile la nostra felicità. Una frase molto breve ma molto densa. Per cui lui ha scritto questo libro dove c'è tutto, dalla pena dei traslochi a che cos'è un bagno, che cos'è una camera da letto, ma con un approccio di carattere filosofico. Vi dicevo che ho fatto degli incontri felici, un altro incontro felice è stato questo. Premetto che non mi paga lei inaudi, sono due inaudi ma per ora almeno non ho avuto un approccio di carattere mercantile. Peccato perché avrei accettato. Allora, Massimo Mantellini è questo tecnologo, romagnolo peraltro, di Forlì. Scrive dei libri molto belli, si occupa di internet e di rete da molti anni. E ha scritto questo libro che si intitola Dieci splendidi oggetti morti. Non è così drammatico come sembra. Gli oggetti morti sono il fax, il telefono, la lettera cartacea. E tra gli oggetti morti lui inserisce anche il cielo e latamente il soffitto. Ecco cosa dice. Il soffitto è il nostro primo orizzonte visuale verso l'alto, il primo incontro con il cielo. Oggi i nostri soffitti non raccontano più storie, eppure nel passato nei soffitti si muovevano angeli. Dei si snodavano storie, si immaginava il cielo. Il nostro tempo è quello della miseria dei soffitti. Drammatico, eh? Lui riprende questo concetto della miseria dei soffitti da un psicanalista americano che si chiama James Hillman, che in una conferenza aveva citato questa desolazione di quello che per noi, abitanti di una casa, è il cielo. Ve ne ho messo qualche esempio. Ho girato un po' tra i vari siti di architettura moderna per vedere appunto che cosa significa miseria dei soffitti. Non è così drammatico, ma vedete, questi soffitti sono soffitti algidi, non raccontano, non ci spiegano di un mondo altro, di un sogno altro, ma sono una semplice, come dice la Treccani, una porzione di muratura che ci delimita verso l'alto. Ho messo questo perché lo trovo di un orrore unico. Un soffitto parchettato non l'avevo mai visto, ma insomma, spero che nessuno di voi abbia soffitti parchettati e comunque andiamo avanti. Naturalmente qui io non posso raccontarvi, e non ne sarei all'altezza, e non avremo il tempo di raccontare la storia della decorazione parietale e dei soffitti in particolare. Rimarremo qui fino all'8 gennaio del 2024 e non credo che sia possibile. Però quello che vi voglio far vedere molto velocemente è com'era il tempo, cos'era quando non esisteva la miseria dei soffitti. Guarderemo qualche esempio generale di quello che accadeva in Italia e poi scenderemo anche a Imola e infine a Palazzo Tozzoni. Ho scelto una caricatura di Michelangelo, un'autocaricatura di mano sua, che si raffigura mentre dipinge la Sistina. Io avevo sempre immaginato, non so se voi avete mai immaginato esatto come si dipingeva un soffitto come la Sistina, io immaginavo che lui dipingesse sdraiato, invece no. E quando in passato ho letto questo sonetto che lui dedica a se stesso mentre dipinge la Sistina, che è molto divertente perché è autoironico, dice ho la gobba, ho le gambe anchilosate, mi fa male la schiena, insomma racconta della difficoltà. Capisco anche, e lui si autoritrae, che si dipingeva in piedi. Vado avanti, cominciamo? Stai pronti? Eccoci qua. I soffitti cominciano ad essere abitati dall'antichità, vedete ho messo un esempio pompeiano, queste sono le terme stabiane, secondo secolo a.C. La volta è decorata in stucco, sono dei piccoli clipei dove all'interno sono delle figure elegantissime in rilievo. Ravenna, naturalmente, penso che lo conosciate molto bene, nel mausoleo di Galla Placidia, prima metà del V secolo, non sappiamo se in realtà fosse veramente un mausoleo, sicuramente è comunque nato, voluto, per volontà di Galla Placidia. Ci avviciniamo invece a tempi, diciamo, ad un'età, quella che si chiama età moderna, non contemporanea, moderna. Vi porto prima a Ferrara, vedete, dove Domenico di Paris e Bongiovanni di Geminiano Gabrielli lavora in questa grande sala all'interno di Palazzo Schifanoia, la sala degli stucchi o delle virtù. Era una sala importante, siamo nel 1467-1470 circa, era una sala importante perché era l'anticamera, fungeva da snodo, diciamo, per lo studio di Borso d'Este e anche per i suoi appartamenti privati. Quindi doveva essere particolarmente elegante e magniloquente e in effetti è veramente molto bella. Più in basso, vedete, arriviamo al 1498, questa è la decorazione del soffitto della Casa delle Asse di Leonardo al Castello Sforzesco ed è Leonardo da Vinci. Qui è il grande naturalista che dipinge, sono gli anni nel quale lui indaga con i suoi libricini, il suo disegno minuzioso, indaga la natura in maniera veramente lenticolare, minimale e qui ripropone, quando si trova a dover decorare una sala, propone questo intreccio di alberi che sono gelsi, peraltro, quindi sono anche identificabili ed irampicanti fino a coprire questa grande sala che si chiamava Sala delle Asse perché in realtà era ricoperta da assi di legno, era parchettata come quello di prima. Vabbè, si vede che l'orrore esisteva anche allora. Qui siamo nella grande decorazione cinquecentesca, questo è Paolo Veronese, questa è la Sala dell'Olimpo a Villa Barbaro a Maser di Treviso, siamo a metà del Cinquecento circa, ed è qui un imponente convito degli dèi su questo cielo che ha questo punto centrale che vedete sfugge verso l'alto. Questo è importante, quando i pittori si trovano a lavorare sul soffitto la cosa importante è quella di creare un'apertura che ci faccia vedere una parte del cielo. Un cielo, in questo caso, abitato naturalmente da un mondo sovrannaturale di dèi. Questo è Sonannibale e Agostino Carraccia, Palastro Farnese, la grande cavalcata dell'amore degli dèi. Come vedete anche qui un trionfo assolutamente lussureggiante di immagini, di colori. Questo è Pietro da Cortona, qua siamo nel 1632-39 e qui siamo nel momento del gran motore barocco. Siamo nel Palazzo Barberini, forse uno dei palazzi più belli della Roma barocca, dove sul soffitto c'è questa allegoria della Divina Providenza, che però è anche il trionfo della famiglia Barberini. Le api che vedete al centro sono naturalmente lo stemma della famiglia Barberini. Andiamo avanti. Quello che volevo dirvi è che già da metà del Cinquecento c'era la consapevolezza che il soffitto era un luogo illusivo, che poteva diventare un luogo illusivo. Vi ho messo la prospettiva, Appittorum e Architettorum di Andrea D'Aposto, di padre Andrea D'Aposto, gesuita e grande pittore, ma già Vignola scrive la regola dei cinque ordini di architettura e le due regole di prospettiva. E poi voglio citarvi Sebastiano Serlio, dal quarto libro del Trattato sull'architettura, 1537, lui scrive Fingere alcune aperture e in quelle fare paesi di presso, aere, quindi cielo, casamenti, figure, animali, perché così si finge il vero. Allora noi dobbiamo fare finta che ci sia un'altra realtà che è al di là delle pareti e del soffitto della nostra casa, del nostro palazzo in questo caso, Savassandir. E qui siamo naturalmente, ci avviciniamo lentamente a Imola, cioè facciamo un avvicinamento progressivo giusto per avere un po' un'idea di che cosa accade nel resto d'Italia. Qui siamo a Bologna, questo è Girolamo Curti, detto il dentone, che ci faceva tanto ridere quando studiavamo da ragazzini, e Agostino Mitelli, questo è il soffitto della garreria del Cardinal legato al Palazzo Comunale di Bologna, siamo attorno agli anni 30 del 600. Curti diventa un quadraturista. Questa è una parola molto particolare, però chi si occupa di pittura l'avrà già sentita. Lui ha un stranissimo percorso, era un operaio in una filanda. Poi diventa modello presso lo studio di un suo amico che fa il pittore, Leonello Spada. Si appassiona moltissimo alla pittura e comincia ad approfondire questa pittura di finta architettura. Questo è un soffitto assolutamente piano. Voi vedete invece come queste colonne dipinte lo proiettano verso un punto altissimo dove c'è l'emblema del Cardinal Spada che era naturalmente colui che l'aveva commissionato. Vado avanti? Angelo Michele Colonna è un altro quadraturista. Bologna si specializza, l'Accademia Clementina di Bologna si specializza nella quadratura. Cosa vuol dire? È un termine coniato da Vasari. Vasari ha fatto quasi tutto, ha coniato anche questo termine. Lo chiamava lavoro di quadro, di quadro e di spesse. Il quadro era la squadra. Le spesse erano i compassi per cui è un lavoro di quadro e scompassi. Io vi ho messo questo bel disegno di Angelo Michele Colonna che è per esso la Pinacoteca Nazionale di Bologna dove vedete come veniva costruito questo disegno. Vedete, prima c'è la costruzione architettonica molto lineare, molto semplice che poi viene arricchita dal particolare che vedete in basso di tutti questi cartigli, queste foglie d'accanto e naturalmente con all'interno l'amorino volante che quello non manca mai. Di solito lavoravano in coppia il quadraturista che era quello che si occupava di fare il lavoro pesante, di costruire la prospettiva e l'architettura e un figurista o paesista che invece lavoravano solamente alle immagini che abitavano queste architetture fantastiche. Non dimenticatevelo perché a Imola succede esattamente la stessa cosa. li riconosceremo. Questo sono sempre Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli questa è l'apoteosi di Alessandro Magno e Palazzo Pitti. Vedete che questo carro che certifica il trionfo di Alessandro Magno che svetta all'interno di un cielo fantastico è di un'architettura che lo porta verso l'alto. Eccoci qua. Siamo arrivati a Imola. Mi hanno fatto una cavalcata un po' veloce, forse anche un po' confusa, spero di no, e siamo arrivati a Palazzo Codronchi. Questo forse è uno degli esempi più vecchi di architettura, di soffitto dipinto qui in città. Voi sapete che nel 1700 Cosimo Morelli, architetto delle legazioni pontifice, è in qualche modo sì colui che costruisce Imola ex novo, ma per farlo abbatte anche tanto di quello che esisteva prima. Quindi tanto materiale pittorico medievale imolese non esiste più perché nel 700 veniva tolto di mezzo per costruire ex novo. Qui invece siamo in un luogo protetto. Io ho scelto, visto che siamo a Palazzo Tozzoni, ho scelto soprattutto esempi di palazzi naturalmente. Questo probabilmente è un pittore bolognese. Siamo nella seconda metà del 600. Vedete che ci sono un po' di affinità con quanto abbiamo appena visto sia del Dentone sia di Angelo Michele Colonna. Vedete che c'è una semplice cornice che però prospetticamente ci porta verso l'alto e all'interno c'è questo Ercole che sale all'Olimpo. Pottabilmente Ercole era un Ercole codronchi perché molto spesso queste glorificazioni avevano questo senso di carattere così ageografico del committente di turno. Eccoci qua. Siamo a Palazzo Tozzoni. Io queste ve le ho messe perché le considero veramente una piccola grande scoperta. Siamo nel salottino di Giuditta, al piano terra. Se poi vorrete andare a vederlo potete scendere naturalmente e dare un'occhiata. Sono 13 lunette che raccontano la storia biblica di Giuditta. Ultimamente, negli ultimi anni c'è stato molto studio proprio sulla figura di Giuditta che è una figura che ha un'importanza nella cultura occidentale forte. Diciamo viene citata da Dante nella Commedia e abita moltissime delle miniature del 3 e del 400 ed è protagonista nel 600 di tantissimi dipinti. Chi non ricorda Caravaggio, la Giuditta di Caravaggio, quella di Artemisia Gentileschi e ce ne sono tantissime altre. Quindi è una figura veramente donna forte. Qui nel palazzo queste 13 lunette si trovano nel punto più antico del palazzo e infatti sono inserite all'interno di una volta d'ombrello che è una volta caratteristica quattro e cinquecentesca. Il palazzo Tozzoni nasce su due case che erano affiancate e che erano abitate dai Tozzoni già dalla fine del 400. Qui abbiamo un archivio Mirella Plassi lo sa abbiamo un archivio molto ben strutturato grazie alla Regione Emilia-Romagna dove ci sono già dei manoscritti quattrocenteschi di fine 400 perché i Tozzoni vivevano già qui venivano dalla Toscana e si erano trasferiti qui. Il palazzo così come lo vedete è settecentesco vengono riunite queste due case con un'unica facciata e viene arricchito all'interno probabilmente questo è ancora precedente a questa nascita di palazzo Tozzoni ed è pienamente seicentesco guardate che cosa vi ho isolato in basso questo è un precedente importantissimo di questi piccoli nudi all'interno dei fregi decorativi questo è un po' un caposaldo vedete questo Annibale, Ludovico e Agostino Carracci a palazzo Fava nel 1584 dipingono questa serie di storie questo è il riquadro di Giasone Medea e c'è questa piccola Medea che è questo piccolo nudo così luminoso guardate assolutamente elegante e commovente nella sua bellezza ingenua e sicuramente questo può e deve essere secondo me il diciamo il modello di questa Giuditta che invece troviamo qui a palazzo Tozzoni questo piccolo nudo con Giuditta al bagno e da qualche parte c'è Oloferne che la occhieggia e che quindi sarà motore di questa storia terribile non sappiamo io me lo sono chiesta perché come mai abbiamo questo questo fregio questo fregio così particolare che in minimola non ne conosco altri di questa natura probabilmente c'era una Giuditta Tozzoni chi lo sa io spero che fosse meno cruenta e meno temibile della Giuditta biblica lo spero per chi l'aveva conosciuta vado avanti non volete già passare la cioccolata no? no va bene vado avanti questo è il cuore di questa volta ad ombrello del salottino di Giuditta dove ha le stesse date questo pittore che non sappiamo chi è perché i Tozzoni tanto buoni e cari per nel loro archivio da parlarci sempre di quello che compravano in termini di fienagione vino mattoni per fare le case eccetera poi dei dipinti non avevano un particolare sentimento e di questo scherzo naturalmente però davvero non abbiamo informazioni e questo non sappiamo quando e chi l'ha dipinto però quello che c'è la figura centrale che c'è è una figura che ha una tradizione questa è la fama vedete vi voglio leggere cosa ne scrive Cesare Ripa Cesare Ripa l'iconologia di Cesare Ripa è quello strumento che tutti i pittori conoscevano dove si davano delle indicazioni iconografiche per le figure allegoriche Cesare Ripa scrive guardate un po' la figura se ci sta donna vestita ad un velo sottile succinto attraverso raccolto a mezza gamba che mostri correre leggermente avrà due grandi ali nella destra mano terrà una tromba la tromba significa il grido universale sparso per gli orecchi degli uomini qui c'è tutto mi sembra non solo la nostra fama ha questa chiarina non è una tromba questa è una chiarina ha appeso uno standardo dove vedete al centro c'è l'arme dei tozzoni il cervo rampante coronato e a questo si aggiunge questo cartiglio che svetta sulla testa di questa donna leggermente che corre leggermente con scritto tu onoreficenza del nostro popolo la fama guardate non è noi siamo ora la classifichiamo e la non so la contabilizziamo in follower in in like cose così no non era così allora naturalmente la fama non era nei 15 minuti di celebrità che citava Andy Warhol ma era la fama perpetua era il futuro interessava dopo doveva durare nel tempo la fama secondo diciamo gli uomini e il pensiero di quelle date vado avanti qui è un altro bel palazzo imolese qui siamo a palazzo Miti Zagnoni questi sono Giuseppe e Antonio Rolli qui c'è la diciamo la gloria della famiglia Miti Zagnoni è arrivato dopo nell'Ottocento il palazzo viene acquistato dagli Zagnoni ma a queste date siamo nel 1680 circa Giuseppe e Antonio Rolli si formano anch'essi a Bologna voi sapete che Imola per lungo tempo diciamo a partire dall'inizio del Seicento e per buona parte del Settecento fino alla metà del Settecento circa ha un'autonomia nella pittura molto limitata perché arriva nel 1600 proprio ad annum ad aprire il secolo arriva a Imola un dipinto di Ludovico Carracci la Sant'Orsola con le compagne che si trova nella chiesa di San Domenico e lì è uno shock visivo fortissimo perché è veramente un dipinto innovativo a questo punto tutte le commissioni sono dei pittori bolognesi non è giusto forse però è così Imola comincia ad avere un declino pittorico Giuseppe e Antonio Rolli si formano quindi a Bologna e come vedete anche qui uno dei due è quadraturista quindi costruisce questa fragile architettura abitata all'interno da queste figure volanti guarderemo poi meglio qual è questa figura al centro provate a misurare l'altezza qui questi sono misurati quando abbiamo fatto i restauri sono 12 metri provate a immaginare un trabattello un'impalcatura per arrivare lassù ecco erano tanti frescanti che morivano cadendo dalle impalcature e così accade a Giuseppe Rolli non qui a Imola succede a Bologna la chiesa di San Paolo Maggiore è uno fra i tanti anche Giacomo Cavedone altro grande pittore bolognese cade dai ponteggi di San Salvatore si salva ma rimane storpio per la vita non lavorerà più quindi era anche un lavoro che aveva delle difficoltà vere e proprie Giuseppe e Antonio Rolli vengono chiamati a Imola hanno questa questa committenza molto importante vedete il cuore di questo di questo fresco questo vedete questa è la giustizia coronata da un angelo in volo che tiene la la bilancia e questo è il diritto il diritto che appoggia su uno dei piatti un giglio che è diciamo un emblema un segno di purezza di innocenza di assoluta virtù ma perché è questo? loro si chiamavano miti no? questa è una impersonificazione io me lo sono scritto se c'è qualche avvocato qui mi perdonerà penso ce n'è uno lì adesso mi perdonerà anzi poi ti chiedo se questa è una impersonificazione un'allegoria dell'ex meteor dico bene lo leggo perché io non questo principio si traduce nelle norme secondo cui se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottati prima della insomma avvocato è una noia tremenda tu la sai tutta sono diverse il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato è così Giacomo ecco allora la legge più mite va applicata probabilmente questo miti qui mia ignoranza mi scuso era un giure consulto era un avvocato lo sapevi questo è una sorta di allegoria del nome della famiglia miti e di questa l'ex meteor che è diciamo il cuore di una legislazione non so possibilista garantista chiamiamola come vogliamo vado avanti qui siamo nel 1690 quella che vedete in alto è la bellissima bellissima biblioteca di Giorgio Barbato Tozzoni che ha alle pareti finalmente un pittore imolese questo è Giuseppe Bartolini queste sono le lunette con le storie della guerra di Troia siamo nel 1690 a cavallo con l'inizio del settecento lui finalmente arriva Bartolini è allievo di Pasinelli che è un pittore bolognese poi si sposta a Forlì diventa allievo di Carlo Cignani di Paolo Cignani quindi comincia a rifondare qui in Romagna una sua scuola di pittura ha una sua piccola accademia ha dei continuatori e quindi vedete è un pittore molto accademico molto così roboante di gran teatro guardate queste piccole lunette dove accadono questi avvenimenti con gran sfoggio di gambe braccia animali c'è insomma un po' di tutto e quindi è veramente molto è gran teatro ecco è un gran teatro ancora barocco se vogliamo vado avanti e qui entriamo nel palazzo del potere perché siamo nel palazzo comunale e questo è sono due affreschi anzi dirò meglio queste sono decorazioni murali perché l'affresco è un po' un mito della storia dell'arte l'affresco ha un'elaborazione tecnica altissima difficilissima ci vuole un'abilità una tecnica straordinaria queste sono decorazioni a tempera a tempera uovo fissate comunque sul muro e qui lavorano Alessandro della nave Antonio Villa Angelo Gottarelli e come diciamo Westar non so come si dice Giacomo Zampa che è questo pittore forlivese della nave Villa e Gottarelli sono una triade che dipingerà tutta Imola nel corso del diciamo della metà settecento e di buona parte dell'ottocento perché naturalmente sono compatti fanno diciamo cordata assieme a Cosimo Morelli e hanno come la loro diciamo come loro caratteristica quella di essere molto veloci di essere a buon mercato sono un'equip di lavoro vera e propria voi dovete immaginare che queste erano botteghe che dovevano lavorare erano a partita da IVA insomma adesso questo è per dire dovevano quindi produrre e sono loro che accompagnano Cosimo Morelli nel decorare diceva Giacomo che io sono qui da tanti anni sì sono qui da tanti anni la prima cosa un po' importante che ho fatto quando sono arrivata qui è stato fare una ricognizione dei palazzi storici molesi per vedere cosa era dipinto all'interno nessuno lo sapeva è uscito questo libro secondo me ancora interessante perché poi dopo non ne sono più stati fatti si chiama Il volto nascosto della città che è in vendita presso i musei io faccio anche un po' di di pubblicità e lì noi abbiamo indagato grazie alla generosità devo dire di tanti proprietari di questi palazzi privati che ci hanno fatto entrare ci hanno fatto vedere per cui abbiamo scoperto veramente un mondo che è al di là delle facciate che voi vedete sulla via miglia ovviamente più che sulle altre all'interno questi palazzi sono tutti decorati con queste stanze veramente molto belle questo è il palazzo comunale l'appartamento del magistrato qua siamo poco prima del 1777 perché sappiamo usiamo questa data perché Marcello Oretti storiografo bolognese che scrive la storia della pittura nelle legazioni pontificia quindi attraversa parte da Bologna ovviamente arriva a Imola attraversa la Romagna e arriva fin quasi nelle Marche ma non arriverà a scrivere tutto e su Imola ci racconta già l'esistenza di questi affreschi quindi noi sappiamo che nel 1777 qualcuno li aveva già visti fotografati con carta e penna ecco anche queste sono figure allegoriche vedete la figura questa è la gloria o la sapienza che tiene acceso questo lume e che troneggia all'interno di questa cassonettatura che era il pane di Antonio Villa che era il quadraturista di questo gruppo di lavoro e qui invece ancora una volta la giustizia sono sulla testa diciamo di chi lavora all'interno del palazzo comunale e vi tiene d'occhio questo l'ho messo perché accanto a questi grandi oculi centrali ci sono anche dei bellissimi fregi questa è la felicità pubblica io credo che si possano andare a vedere su richiesta si si sono aperti sono tre sale molto belle questo invece si trova al museo di San Domenico le collezioni d'arte della città questo è Giacomo Zampa di cui vi ho già detto prima Giacomo Zampa è un pittore forlivese che però lavora anche fuori della sua città lavora in Imola parecchio anche questo è un dipinto datato 1777 ma solo perché lui era già qui quindi noi sappiamo che è arrivato questo affresco anzi comincio dall'inizio questo decorava un oculo fate fonte una cosa come questa un po' più piccola di un soffitto a palazzo Codronchi della Rocca su questa stessa via via Garibaldi è proprio il palazzo affrontato alla Rocca Sforzesca è un piccolo palazzo ma dentro delle cose meravigliose questo soffitto è caduto così pesantemente in mille pezzi io quando sono arrivata stavo dentro una scatola capito proprio una roba per cui c'è stato un lavoro di ricomposizione ricucitura planarizzazione perché questi pezzi poi si erano tutti inarcati è stato fatto un lavoro di restauro davvero minuzioso e attento parecchi anni fa infatti adesso è già nel percorso delle collezioni comunali come vedete i risarcimento della pittura non abbiamo fatti tutti rimangono queste piccole lacune a certificare insomma questa drammatica caduta dal soffitto questo è Ganimede che sale all'Olimpo sull'Aquila di Giove allora perché questo è molto particolare poi vi farò vedere ma un po' avete capito i palazzi molesi erano abitati da queste finestre su un mondo idilliaco il fatto di paesaggi fiumi che scorrono piccole scene tratte dalla Bibbia ma con figure piccolissime perché quello che era importante era tutto il resto invece qui è naturalmente questa figura centrale unica enorme che prende tutto lo spazio è un dipinto di grande bellezza purtroppo punto rovinato secondo me ci dovevano essere anche delle finiture ovviamente a secco però è un dipinto che vale la pena quando riapriremo il museo di San Domenico di venire a vedere vado avanti siamo tornati a Palazzo Codronchi perché nel 1792 Ludovico Codronchi diventa gonfaloniere questo palazzo enorme con queste grandi sale questa è la sala diciamo le sale del palazzo erano tutte così cinquecentesche enormi cosa succede? succede che comincia a nascere un gusto diverso dell'abitare le stanze si fanno più piccole più borghesi ci sono stanzette dove per esempio diventano piccole sale da gioco con questi tavolini dove si gioca a trick track a faraone diventano piccoli boudoir c'è tutta una proprio un modo di vivere diverso lo diceva il nostro filosofo all'inizio si cerca un'intimità diversa col mondo nelle nostre case e qui sono vedete delle decorazioni molto eleganti molto rarefatte niente a che vedere con quello Ercole nell'Olimpo che abbiamo visto all'inizio lui si fa costruire queste tante stanzette dove c'è una sorta di Olimpo domestico Marte Venere Giunone ci sono tutte le figure più importanti degli dei vado avanti questa è la virtù che sfodera la sua spada e incorona dall'oro immaginiamo lo stesso Ludovico Codronchi che gonfalone deve per forza avere la verità che lo guida non sappiamo se è successo ma qua sospendiamo il giudizio qua siamo a Palazzo Ginnasi siamo in un palazzo sulla Via Emilia vedete qui è una decorazione che viene creata quando si sposano Lucrezia oddio adesso mi sfugge il nome un matrimonio dei Ginnasi vedete c'è un amorino che coperto da questo drappo rosso che tiene con queste funicelle rosse anch'esse colore di passione le due colombe unite in matrimonio quindi è un gentilissimo affresco che riguarda appunto una vita privata che viene raccontata così questa la conoscete tutti vero? la farmacia dell'ospedale siamo nel 1794 qui è ancora il fantastico 2 della nave Gottarelli che realizza questo motivo apergolato con questa balconata aperta meravigliosa e al centro c'è questo amorino che regge i simboli vedete che ci sono questi oculi questi clipei che con queste profili a medaglia diciamo di scienziati famosi di medici famosi perché il racconto iconografico della farmacia dell'ospedale è di un medico Luigi Angeli che è stato poi anche sindaco di Imola mi pare è stato colui che ha creato la prima pinacoteca ed era medico scienziato e quindi racconta questa storia della scienza dall'antichità questa è la biblioteca comunale siamo nel 1794 ancora è un anno capitale il 1794 per la decorazione vedete nella nave Antonio Villa ma andiamo velocemente non vi voglio annoiare questa è la villa La Marcona a Sasso Morelli qui appunto ci fecero entrare in quell'anno che ricordavo 2001 per fare queste indagini sulla decorazione vedete tutta questa finta balconata in alto qua non c'è nulla questo è muro ed è naturalmente la sapienza di Antonio Villa come quadraturista e di all'estrando della nave come paesista vi ho messo anche un riquadro delle pareti questa è un po' la sigla della decorazione imolese tra 7 e 800 queste queste verzure questi paesaggi questi fiumi con questo aspetto è un paesaggio d'arcadia di sogno di pastorelle di elfi di insomma è un po' il sogno del paesaggio fatato e adesso arriviamo di nuovo a Palazzo Tostone vi ho già stancato un po' vi vedo un po' siete stanchi? no? vado avanti? va bene allora questo è Pasquale Saviote Antonio Oliverani sono qui di fianco a noi quindi questo è il motivo decorativo a finti tendaggi a Morini della camera da letto dell'appartamento Impero qui di Imola e qui voi vedete cambiamo completamente dimensione visiva quando si sposa Giorgio Barbato Tozzoni con Orso Labandini recupera due enormi sale che erano qui la sala dei cardinali e la sala degli stucchi mi sembra le partisce in tre stanze e le fa decorare le fa decorare alla moda perché lui è stanco di vedere pastorelli paesaggi fiumi cieli con gli amorini no? a questo punto voglio qualcosa di moderno di nuovo e ci sono questi finti tendaggi che adesso vi faccio vedere da dove arrivano eccoli qua qui siamo nel 1799 1802 circa sono due architetti Charles Persier e Pierre Fontaine che decorano che costruiscono che arredano e decorano le châteaux de Marmaison a Parigi dove vivono Napoleone e Giuseppina vedete questi sono tendaggi veri ma naturalmente vengono ripresi quindi immaginate la modernità di questi Tozzoni che improvvisamente fanno uno scarto una mossa del cavallo e decidono di fare alla francese fantastici naturalmente questo lo lo sanno lo conoscono perché volano attraverso le stampe le decorazioni che fanno moda a Parigi le raccolte di Persier Fontaine con le decorazioni di interni sono tantissime e girano per tutta Europa avranno grande successo per esempio in Russia quasi tutta San Pietroburg è decorata così ma quello che forse avevano visto i nostri Tozzoni era questo a Faenza voi sapete Orsola Bandini la moglie di Giorgio Lobarbato è faentina e forse aveva ben in mente questo che è un bellissimo palazzo che è Palazzo Naldi questa è la sala di Bacco e vedete che alle pareti ci sono dei finti tendaggi alla maniere di Persier e Fontaine come stava accadendo a Parigi l'ultima moda di Parigi in fondo non è un modo di dire che viene solamente per noi e da noi al centro di questa camera da letto c'è questa Latona ai pastori doveva essere un affresco benaugurante anche questo perché Latona mette al mondo due fanciulli due gemelli nati dall'amore di Giove Giunone la perseguita lei fugge e trova questo rivo dove bere ma questi pastori antipatici glielo intorbinano e lei li trasforma in rane qui siamo in un momento di passaggio nel quale i pastori ancora non sanno del loro triste futuro da rane e Latona che allatta questi due due bambini qui siamo nel salotto di Palazzo Tozzoni qui sono le quattro virtù cardinali vedete che si passa da una decorazione da quello che io ho chiamato il grande motore decorativo con questo movimento centrale verso l'alto qui arriviamo invece ad una rigore ad una severità ad una linearità della decorazione altissima in cui si vuole proprio far rivivere l'antico quello di Ercolano e di Pompei non dimentichiamoci che non sono state scoperte da tanto Ercolano e Pompei sono 1794 quindi Pompei un po' più tardi Ercolano però sono date nelle quali si avverte già questa tensione che è una tensione morale prima ancora che figurativa e che diventa poi appunto figurativa queste sono le quattro virtù cardinali le virtù quelle che c'entrano meno con l'aspetto teologico ovviamente sono teorizzate da Platone quindi in antichità la prudenza eccola qui la giustizia la forza e poi c'è questa molto molto particolare perché io sapevo nella mia ignoranza che le virtù comprendevano la temperanza che è questa donna che versa l'acqua in due vasi appunto per temperare l'acqua invece questa e adesso vi leggo perché Cesare Ripa è sempre nel mio cuore vi leggo la definizione iconografica di Cesare Ripa se la trovo non la trovo ma ve la dico è una donna con i capelli sciolti con un drappo azzurro sulle spalle che tiene con entrambe le mani una nave e si appoggia ad un fusto di colonna scusate allora la confidenza diciamo che l'idea è quella del marinai che pur sapendo che il mare è pericoloso lo varcano lo stesso lo scendono in mare lo stesso perché confidano guarda qua che onore grazie grazie molto Giacomo confidano nella nella loro competenza e nella loro nave quindi c'è al posto della temperanza questa confidenza devo dire ma se vuoi è capitato di vederla altrove nelle decorazioni murali ditemelo perché io non l'avevo mai vista ripeto è solo mia ignoranza quindi da qualche parte ancora esisterà vado avanti qui è Creonte che condanna Antigone quindi vedete qui la tragedia di Sofocle quindi viene ripreso proprio un antico antico un antico greco quindi c'è anche questa la figura di Antigone una figura di grande dirittura morale di grande autonomia di giudizio capacità di sfidare il dittatore in questo caso quindi sappiamo anche che Giorgio Barbato era fieramente napoleonico quindi era anti francese era pro Francia aveva militato nella grande armè napoleonica quindi aveva una sua come dire figura politica ben precisa anche all'interno della città questo è invece la sala della musica che è questa in fondo qui vedete c'è una decorazione anche qui a grisai cioè in grigio in bianco e nero appena appena colorato e un oculo centrale con questi dei dell'Olimpo che sembrano tutti in fila per farsi la fotografia mi piace moltissimo sono molto molto bufi con questo giove molto macho man così ha questo torso nudo molto palestrato eccoci qua adesso vi faccio vi chiedo lo sforzo di sfidare appunto la cervicale di alzare il naso per aria e per questo abbiamo chiamato con il naso all'insù questo incontro perché era questo un po' il gioco che vogliamo fare qui siamo però nel 1950 qui probabilmente esisteva già un oculo di questo tipo con questa raffigurazione di fetonte della caduta di fetonte ma qui in questa sala dove siamo aveva sede il comando tedesco negli anni nel 45 scoppia una granata e cade la volta a questo punto dopo la guerra naturalmente quando viene ricostruita io immagino perché purtroppo di molte sale noi abbiamo anche fotografie degli anni 20 degli anni 30 del salone no per cui noi non sappiamo che cosa fosse rappresenta ma io ritengo poi sfido chiunque perché non lo sa nessuno quindi vado sul morbido mi piace vincere facile come diceva la pubblicità probabilmente c'era lo stesso oculo probabilmente era anche questo un Alessandro della nave un villa è stato rifatto da questa ditta che si chiama la bella casa che esiste ancora Imola lavora ancora devo dire fatto con grande realizzato con grande con grande proprietà e cercando di avvicinarsi credo più possibile all'originale signora coraggio abbiamo finito fatica allora io avrei più o meno finito di tormentarvi ve ne ho raccontate tante non so però ci tenevo a finire con qualcos'altro vi ho detto che il nostro è il tempo della miseria dei soffitti vero fino a un certo punto siamo nel 1964 questo è l'Opera Garnier di Parigi che chiama Marc Chagall a dipingere diciamo il soffitto centrale della platea insomma il soffitto più grande dell'Opera lo chiama André Marrot allora ministro della cultura più che illuminato e lui realizza questo meraviglioso e fantastico puro stile Chagall sono tanti personaggi delle opere che volano all'interno di questo spazio fece molto scalpore anche perché proibirono tutti di vedere i lavori in itinere Chagall non pubblicò mai in bozzetti prima lo scoprirono proprio al giorno dell'inaugurazione e fece molta molta impressione vedete guardate a me diverte molto guardate la differenza tra queste figurine molto molto come il faux accademiche che erano quelle della vecchia partitura architettonica e invece questo concerto di colori che è all'interno finisco veramente e vi faccio vedere questo lui è Ansel Kiefer è un progetto che cura da anni un artista straordinario se siete ancora in tempo ad andare a Palazzo Venezia scusatemi a Venezia al Palazzo Ducale a vedere la sua mostra è la serie questa che si intitola I Sette Palazzi Celesti il titolo è Il cielo stellato sopra di me il vuoto abissale dentro di me non è propriamente un soffitto forse ma è la cosa che ci assomiglia di più anche se è così inquietante ma quello che io volevo raccontarvi nel chiudere questa chiacchierata è che l'arte in fondo non ha perso del tutto l'abitudine di immaginare il cielo e forse anche minaccioso come questo e insomma non ha perso l'abitudine di stare con il naso per aria grazie grazie